La staffetta della Rinascita, terza edizione 2023, una staffetta questa volta di carattere globale perché è presente i cinque continenti. Abbiamo la bandiera dell'Ecuador, di Colombia, di Perù, la bandiera del Sudafrica, di Monte Carlo, appunto anche qui la bandiera di Italia, poi la bandiera genovese, questa bandiera firmata dai ministri di Roma. Questa staffetta è sostenuta dal Comune di Genova perché loro hanno a cuore le attività dell'ambiente, dello sport e soprattutto un grazie al Consorcio Proloco, alle 6.000 associazioni Proloco presenti in Italia che fanno attività di carattere virtuoso a favore della promozione del territorio ed è molto importante l'attività del volontariato. In questa terza edizione c'è tanto entusiasmo, tanta partecipazione e poi concluderemo, concluderemo con una festa interculturale all'insegna del folklore, all'insegna dell'ambiente perché 20 ragazze porteranno un messaggio a favore del pianeta, a favore di salvare il pianeta per le generazioni future, quindi grazie, grazie Proloco e quindi vi aspettiamo, a tra poco, ciao!